Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle maledizioni e delle forme pensiero. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo inoltre che venerdì 10 gennaio 2020 a Torino farò un seminario su come sedurre le persone difficili e come sganciarsi dai narcisisti. Il riferimento è 333 15 11 703. Venerdì 10 gennaio 2020 Torino. E ti ricordo inoltre che chi non potesse seguire seminari per distanza o altri motivi può abbonarsi al canale Massimo Terramasco. Va sulla home page del mio canale principale Massimo Terramasco, a fianco al tastino iscriviti, c'è il tastino abbonati, ti abboni. E potrai a livello top ad esempio avere le registrazioni dei video che faccio in giro e tante altre cose. Bene, e veniamo alle maledizioni, che è un tema spesso trattato, diciamo così, nell'esoterismo, ma non si conoscono le esatte origini. Quindi voglio fare un po' di luce, un po' di chiarezza, portare luce sull'ombra delle maledizioni. Allora, il nostro pensiero, da un punto di vista esoterico, non si esaurisce così, diciamo, senza produrre nulla. Il pensiero produce onde vibrazionali che vibrano a una certa frequenza, che è la frequenza dell'intenzione del pensiero. E queste onde vibrazionali sono in grado di creare delle strutture energetiche, energia vera e propria, chiamate forme pensiero. Quindi l'attività del pensiero umano, quindi, prima di tutto, produce delle vibrazioni del corpo mentale dell'uomo. Queste vibrazioni irradiano delle onde nello spazio circostante. Se il pensiero, diciamo così, è sufficientemente forte, sufficientemente concentrato, sufficientemente focalizzato, allora si crea una vera e propria struttura energetica, chiamata forma pensiero, che risulta, diciamo, tanto potente quanto potente è stato il pensiero delle persone o della persona che le ha generate. Questo pensiero, questa onda energetica, questa forma energetica, tende a propagarsi, diciamo, nello spazio circostante. E tende, diciamo così, a essere direzionata dove la mente della persona che l'ha creata la direziona. Come se io lancio una pietra, la pietra va nella direzione dove io, in qualche modo, ho cercato di mandarla. E queste forme pensiero, come un po', generano un effetto valanga e vanno a attrarre a sé tutte, diciamo, energie simili. E vanno direzionate su un bersaglio. Ora, quindi capite cosa significa la maledizione? Significa un pensiero negativo. Per creare un... perché il mago nero, diciamo così, tra virgolette, utilizza dei feticci? Beh, il feticcio serve a dare più intensità e più solennità alla maledizione, tra virgolette. E quando questa energia, questa forma pensiero, va a impattare, diciamo così, come una pietra scagliata, non tanto sul corpo fisico, quanto sul corpo energetico della persona, beh, produce delle interferenze. Come se un potente veleno andasse a intaccare il corpo energetico dell'altra persona. Ad esempio, sappiamo che nel caso delle malattie, prima qualche malfunzionamento si presentano da un punto di vista energetico, successivamente si materializzano a livello fisico. Quindi, andando a generare questo inquinamento, diciamo così, la maledizione, può sortire dagli effetti di negatività. Le forme pensiero, quindi, sono, come dire, vibrazioni che generano, possono generare sia entità, come dire, negative, perché vanno a raccogliere anche entità negative. Può paragonarsi a un accumulatore di energia, che è pronto a scaricarsi sul bersaglio, oppure a caricarsi ancora di più. La forma pensiero, poi, se diventa molto forte, si sgancia anche da chi l'ha creata, diventa un'entità autonoma. E a quel punto lì viene chiamata, appunto, elementale. Cioè, una parte, diciamo così, che poi può aggregarsi in forme pensiero simili. E, ad esempio, se le forme pensiero sono negative, cioè tendenti a generare del male, possono influire, influenzare anche, diciamo, gli eventi del corso, della storia, in alcuni casi. Pensate, quindi, il carico karmico che ha la persona che ha generato una forma pensiero del genere. Perché sì che la forma pensiero otterrà dei risultati, otterrà sicuramente dei risultati, ma chi l'ha generata a livello karmico, quindi è come se butta la palla di neve e diventa una valanga, però se non avesse buttato la palla di neve e la valanga non ci sarebbe stata, e quindi va, si prenderà poi un ritorno karmico molto, molto, molto forte. Fatto sta che però questa forma pensiero può danneggiare, anche se diventa molto potente, può danneggiare anche in modo serio la persona che la riceve. La forma pensiero, diciamo, quindi si direziona dove sono rivolti i sentimenti, dove è rivolta l'attenzione della persona che l'ha creata. E, diciamo, si scaricherà, quindi, come dicevamo prima, sul corpo astrale della persona ricevente, generando un effetto correlato simile, diciamo così, al tipo di pensiero collegato. Se, invece, però, la persona, il ricevente, diciamo così, ha un corpo astrale schermato, cioè di frequenza completamente diversa da quella della persona che gli invia questa maledizione, la forma pensiero non produrrà nessun effetto, verrà fatta rimbalzare, perché avere una mente pura e un cuore puro, essere immacolati, diciamo così, da un punto di vista energetico, è la cosa migliore per, diciamo, respingere i pensieri e le maledizioni fondamentalmente. Cioè le maledizioni attecchiscono, di fatto, dove trovano un terreno fertile, dove trovano delle frequenze per qualche verso simili, in qualche modo. Se non ci fossero frequenze simili, la maledizione, tra virgolette, non riuscirebbe ad attecchire. Questo è un concetto molto importante, perché è veramente importante. La forma pensiero può ancora crescere e diventa un'egregola quando è un'entità collettiva, diciamo così, quando è una forma pensiero di popolo. Mentre la forma pensiero viene prodotta da un'unica persona, il mago, ad esempio, il mago nero, in questo caso, nel caso della maledizione, l'egregola è un'entità collettiva, creata da un popolo. I pensieri e i desideri di questo popolo, se sono tutti, diciamo, indirizzati verso un elemento, vanno a creare questa macroforma pensiero che si chiama egregola. L'egregola è ogni ideale, diciamo, ogni, come dire, anche idea politica, ogni ideale di vita, ha comunque una o più egregola. L'egregola, diciamo così, cerca di supportare il creatore, chi l'ha creata. Perché questo? Perché l'egregola ha la possibilità di ricevere energia. Quindi si crea, in questo caso, se l'egregola diventa molto, molto grande, si creano quelle che sono cosiddette le divinità. Cioè, diciamo, e questo un po' esprime il concetto che Dio, non è stato Dio a creare l'uomo, è stato l'uomo a creare Dio. Diciamo che le forme pensiero tendono a diventare, quando diventano egregore, tendono a diventare dei veri e propri elementi costituenti, diciamo così, una vita molto costituenti proprio, potremmo definirla, un'energia, un'energia molto grande, molto forte, che si può manifestare in diverse modalità. È ovvio che le egregore possono essere contrastanti, questo contrasto tra egregore può generare dei malfunzionamenti, elementi, diciamo così, e delle... anche può essere la fonte di odio, di violenza tra popoli. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di venerdì 10 gennaio 2020 a Torino, dove parlerò proprio di come sganciarsi dalle persone narcisiste, come sedurre le persone difficili. Inoltre ti ricordo che puoi abbonare al canale Massimo Terramasco e avrai la possibilità di fare una crescita personale con me. Ciao a tutti!